Ci siamo tra poche ore a Pescara, il G7 sviluppo in città inizieranno ad arrivare sin da domani gli entourage dei ministri degli esteri delle potenze mondiali e di 30 delegazioni internazionali. I funzionari della Presidenza del Consiglio con i dirigenti delle Forze dell'Ordine hanno effettuato una ricognizione dell'Aurum dove mercoledì mattina dopo la foto di famiglia prenderanno il via i lavori della conferenza umanitaria sul Medio Oriente. Al via quindi ritocchi al verde all'esterno della struttura e ai divieti oltre alla simulazione dell'accoglienza anche nel palazzo di città dove domani ci sarà il B7 con i referenti delle sette confindustrie mondiali e poi in centro l'assessore alla mobilità del Chi sul Pizio ha assicurato che i trasporti pubblici saranno garantiti. L'Aurum rappresenta la parte nevralgica di questo G7 quindi dove ci saranno allocate e dove ci sarà il vertice vero e proprio quindi in questo contesto già attivo sia il divieto di transito che il divieto di soste. I mezzi pubblici ci saranno tutti quanti non ci sono corse che verranno soppresse così come ci è stato detto da Tua in questo momento ci saranno soltanto in alcune situazioni dei cambi all'interno delle tratte che sono state ampiamente anche già comunicati. In questo caso invitiamo anche a prendere contatto direttamente con Tua con il sito di Tua però sappiamo che su quelle linee interessate già sono state fatte abbiamo chiesto e sono state fatte anche delle segnalazioni quindi abbiamo degli avvisi in cui si diranno per l'appunto che in quel giorno particolare la tratta sarà diversa nel senso che potrà non passare ma magari su Corso Vittorio ma andare su via Ferrari ad esempio come in alcune situazioni. Grazie.